Grazie Presidente, con questa mozione intendiamo dotare gli impianti sportivi di proprietà comunale di uno strumento innovativo che consentirà di prenotare un campo da tennis o un campo da calcetto presso una struttura comunale attraverso uno strumento informatico. Ne esistono ormai diverse tipologie di strumenti di tale tipo, ad esempio il Comune di Milano lo scorso anno ha stipulato un accordo di sponsorizzazione con una di queste app che consente la possibilità di valorizzare quelle che sono le attività, i servizi offerti dall'impiantistica pubblica attraverso questo intervento si unisce alla pubblicazione del motore di ricerca degli impianti sportivi che è avvenuta lo scorso anno quindi si accompagnerà poi alla pagina attualmente presente all'interno dell'area del Dipartimento Sport dove appunto si può effettuare una ricerca per impianto sportivo in base alla disciplina praticata oppure al municipio dove esso è localizzato. Con questa ulteriore novità sarà possibile sapere in tempo reale se un campo da tennis è disponibile il sabato pomeriggio ed eventualmente prenotarlo sul momento e quindi consentirà appunto di ampliare la platea ai quali i servizi sportivi offerti dai nostri impianti sono messi a disposizione per questo appunto chiediamo all'aggiunta un impegno in tal senso. Grazie. Grazie a lei consigliere.